Immagina come ti fa sentire insegnare qualcosa al tuo nipotino. Ora, immagina poterlo fare per migliaia di persone. Firma per l'Otto per Mille alla Chiesa Cattolica. Garantirai un'istruzione e un futuro ai giovani meno fortunati. Avvenire per dare più voce alle parole. Sono sempre meno i giovani che si dichiarano cattolici, ma non viene meno la loro sete di spiritualità. Che si esprime anche con l'adesione di ragazzi e ragazze ad una generica trascendenza. E la Chiesa, in tutto questo, quale ruolo gioca? Sono alcune delle rilevazioni e delle domande che emergono dalla ricerca dell'Istituto Tognolo. Cerco dunque, credo, i giovani e una nuova spiritualità. Bentornati a Dentro l'Avvenire, il podcast che approfondisce i temi di attualità insieme alle firme del nostro giornale. Sono Riccardo Maccioni e do il mio benvenuto a Paola Bignardi, curatrice della ricerca dell'Istituto Tognolo e che sugli stessi temi ha tenuto una seguitissima serie su Avvenire. Paola Bignardi, già Presidente Nazionale di Azione Cattolica e coordinatrice dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Tognolo di Studi Superiori. Benvenuta. Grazie, grazie. Dunque i giovani, come già dicevamo nella precedente puntata di Dentro l'Avvenire, hanno ancora molta sete di spiritualità. Direi che questo sia uno dei tratti più caratteristici della loro sensibilità attuale. Il fatto di aver abbandonato la fede, di aver abbandonato una loro fede o comunque semplicemente di essersi allontanati dalla Chiesa, è come se avesse tolto loro una serie di risposte che venivano loro appunto dall'appartenenza alla comunità cristiana oppure da una fede che professavano, ma il venir meno delle risposte non significa che sono venute meno le domande. Anzi, le domande continuano ad esserci, ad essere a volte anche prepotenti e ad accompagnarsi un senso di disagio che è un segnale, è il frutto, difficile dirlo, anche della solitudine in cui oggi i giovani cercano una risposta alla loro domanda di spiritualità. È una domanda che trova difficilmente risposta, perché il loro modo di intendere la spiritualità è diverso rispetto a quello tradizionale, è diverso rispetto al modo con cui nella comunità cristiana, in cui nella Chiesa si pensa o si vive la spiritualità. Nella comunità cristiana la spiritualità sostanzialmente si vive a partire da Dio, a partire dalla fede religiosa. I giovani non hanno questa risorsa, in genere non hanno questa risorsa. La loro spiritualità è una spiritualità senza Dio, è una spiritualità tutta umana, è una spiritualità che valorizza tutte le dimensioni dell'umano, che cerca la pienezza dal punto di vista umano, che cerca la realizzazione di sé, ad esempio. Questo è una delle espressioni che i giovani usano per dire che cercano una vita piena, una vita realizzata, una vita nella quale sia possibile trovare un proprio benessere interiore, una propria armonia interiore. Ora, tutto questo è tutta questa domanda. Dove si porta? Dove la portano i giovani che non hanno più luoghi in cui queste domande si dibattono? Perché non frequentano più la parrocchia, non frequentano più un gruppo religioso, non frequentano più luoghi formativi e quindi le loro domande sono domande poste in solitudine. Questo naturalmente esaspera il peso di questi interrogativi e rende inquieta la loro ricerca. Però mi pare che in qualche modo addirittura la valorizzi rendendola inquieta. La loro elaborazione di queste domande è un'elaborazione ricca, ricca di motivi, di contenuti, di riflessioni, di motivazioni e questo fa pensare che la loro ricerca spirituale sia una ricerca profonda, non sia una ricerca banale, una ricerca che si pone su un piano diverso rispetto a quello religioso. Anche i giovani che credono in Dio non associano il piano della spiritualità con quello religioso. è come se fossero due piani distinti. È molto interessante questo. È molto, molto. Sono due piani distinti. È come dire che c'è una spiritualità umana possibile che si sviluppa, si approfondisce anche a prescindere dalla fede. A me pare che sia un dato molto bello questo. Ma questo crea anche grossissimi problemi, tra virgolette, alle risposte che può dare la religione tradizionale, se possiamo definirla così. Certo, certo. La religione tradizionale non deve proporsi, credo, come risposta. Deve proporsi come compagna di viaggio di una ricerca. La stessa ricerca che viene condotta sul piano religioso, che viene condotta sul piano spirituale, può essere condotta anche sul piano religioso. Io credo che oggi, se c'è un possibile incontro dei giovani con la fede, questo avviene dentro i loro percorsi spirituali. Il percorso spirituale non è necessariamente, non porta necessariamente all'incontro con Dio. Ma se l'incontro con Dio avviene, non può avvenire che lì. Cioè, non è possibile, credo, oggi, con la sensibilità giovanile che è in campo, che la proposta religiosa sia il frutto di qualcuno che mi dice come e in che cosa credere. Come credere io devo poterlo trovare dentro di me, nella mia interiorità. L'esperienza della relazione con Dio non la posso assumere da altri. Nessuno, in fondo, vive delle relazioni che sono la copia di relazioni altre che qualcuno gli ha insegnato. Ognuno di noi vive delle relazioni che sono il frutto della persona che è e dell'incontro della sua persona con l'altro. Anche l'esperienza religiosa per i giovani si pone in questo modo. Io incontro Dio, ma posso incontrarlo solo dentro di me, perché la relazione che io ho con Dio è una relazione irripetibile. E' la mia, non è quella della mia mamma, del mio parroco, del mio educatore. E' la mia. Questo modo molto interiore di vivere la spiritualità prepara il terreno ad un incontro con Dio che avviene lì, avviene nella coscienza, avviene nell'interiorità. E' un'esperienza molto intima. Ma in questa ricerca, in questo tentativo di trovare risposte a domande che crescono e maturano nella propria interiorità, questi ragazzi accettano di farsi aiutare? Cercano qualche aiuto esterno? I giovani vorrebbero trovare dei punti di riferimento. Ci sono alcune testimonianze in questo senso che sono estremamente interessanti. Vorrebbero trovare dei punti di riferimento, però non accettano che chiunque possa essere il loro punto di riferimento. Questo punto di riferimento deve essere una persona che sa ascoltare, deve essere una persona credibile, autorevole, non autoritaria, autorevole. E la credibilità fa parte dell'autorevolezza. E poi queste persone devono essere capaci di accompagnarsi ai giovani, non essere i maestri che si impongono perché loro sanno già come si deve vivere. Sono persone che si affiancano, in qualche modo direi che la figura di riferimento ideale è un adulto in ricerca, che non ha smesso di cercare, che non è un arrivato, ma che è ancora una persona in cammino. Allora, i giovani che hanno un loro fiuto, non sono privi di fiuto, riconoscono questi adulti e pare che ne stiano trovando pochi. Forse li cercano male o li cercano in contesti troppo ristretti, ma di fatto questa percezione di solitudine è molto forte per i giovani. Una ragazza dice che se avesse una figura di riferimento che l'accompagnasse senza costringerla, forse potrebbe pensare di ritornare. Dice, non so se ce la farei, ma un tentativo lo farei. Fanno tenerezza queste dichiarazioni che danno al tempo stesso il senso della solitudine dei giovani, ma danno anche il senso di una ricerca che si affiderebbe se incontrasse la persona giusta. In questo senso la Chiesa istituzione, definiamola così, come può accompagnare questi ragazzi nel loro cammino di ricerca in grado di dare delle risposte? La Chiesa in quanto istituzione direi di no, perché i giovani non cercano, anzi, girano alla larga. Ma la Chiesa può mettere a disposizione delle figure adulte capaci di accompagnarsi al cammino dei ragazzi. Se la Chiesa oggi potesse formare generazioni di educatori capaci di stare accanto ai giovani così, ma nella vita quotidiana, nella vita semplice, allora probabilmente farebbe la cosa più preziosa in questo momento. E allora penso, ad esempio, a che cosa potrebbe fare un insegnante capace di dialogare con i giovani? Che cosa potrebbe fare un insegnante di religione nella scuola, che è l'ultima istituzione che i giovani frequentano con una proposta strutturata? Ma anche in università, no? Sono gli ultimi luoghi formativi che ai giovani è dato di incontrare. Poi c'è la vita, ma la vita, come dire, non ha regole fisse. Certo. In questo senso, per esempio, i raduni come la giornata mondiale della gioventù, abbiamo visto a Lisbona il grande entusiasmo. Come si inseriscono in questo cammino di ricerca, a suo modo di vedere? Ma noi vediamo questi raduni così numerosi, però percentualmente che cosa rappresentano della popolazione giovanile. C'è un mondo di giovani che si riconoscono in queste iniziative, che hanno un loro spessore spirituale. Ma lo spessore spirituale è dato da una molteplicità di elementi. Il fatto di trovarsi insieme tanti giovani di ogni nazionalità, questo è attrattivo per i giovani. Il fatto di trovarsi in questo contesto straordinario, no? Perché? Perché si vive fuori casa, perché si va all'estero, perché si passa qualche giornata con un'organizzazione molto semplice. Questo è un altro elemento attrattivo. La figura del Papa, che per i giovani è una figura molto interessante, è una figura di riferimento, per quanto sia un riferimento non frequentabile, però poterlo incontrare per loro è molto importante. Ora, questi tre elementi credo che sono, come dire, quello che genera il successo di queste grandi manifestazioni, che però non so quanto intercetti giovani non credenti, perché di per sé la partecipazione suppone dei momenti religiosi, così spiccatamente religiosi, che un giovane che ha abbandonato la chiesa e o la fede difficilmente si riconosce in essi. Quindi le GMG sono un elemento molto importante, ma bisogna un pochino circostanziare il loro ruolo. Direi di sì, direi di sì. Entro il quale ci sta anche la preghiera, ci sta anche la catechesi, ci sta anche l'eucarestia, però sono dentro tutta una serie di altri elementi e comunque sono elementi che coinvolgono i giovani credenti. Certo. Allora, dunque, se noi dovessimo tirare un pochino alcune conclusioni dai dati che emergono da questa ricerca, io provo a sintetizzare, lei mi dice se dico delle sciocchezze in assoluta libertà. Allora, una ricerca che è profondamente interiore, una ricerca di giovani che sono tutt'altro che superficiali, ma anzi estremamente profondi, una ricerca soprattutto di figure, di adulti che siano credibili. Quindi c'è bisogno di una chiesa, banalizziamo così, di testimoni. Certo. Sì, sicuramente, sicuramente. Di testimoni non passivi, di testimoni che siano capaci di accompagnarsi appunto i giovani, che sappiano prendere l'iniziativa. Siamo in questo tempo pasquale e ci sono state proposte tante icone del Signore che incontra i Suoi. Sul cammino da Gerusalemme a Emmaus il Signore incontra due dei Suoi e si accompagna loro. Molto così, molto semplicemente, in maniera da interagire con loro, da dialogare con loro, da spiegare la sua... ma senza... come dire... nella serenità di un dialogo che non pretende niente. Ed è questo, forse, che alla fine porta i due a riconoscere in quel pellegrino il risorto. Per questo modo anche discreto e profondo di accompagnarsi al loro cammino. Quindi torna l'immagine dell'accompagnare, cui lei ha fatto riferimento più volte in questa nostra chiacchierata. Accompagnare credo che sia un'azione molto importante. L'accompagnare include anche un'altra azione, ascoltare. Perché per accompagnare in maniera attiva ci vuole una relazione, veramente. Non è che ci si accompagna come la guida turistica che accompagna il gruppo che va a visitare un luogo. L'accompagnare ha come suo collante un'empatia che stabilisce la relazione. E questa empatia è fatta operativamente di dialogo, è fatta soprattutto di ascolto, di accoglienza. Io ringrazio Paola Biniardi che è stata così cortese da essere nostro ospite anche oggi e che soprattutto ci ha dato delle chiavi di lettura così profonde e così importanti di questa ricerca. Grazie davvero. Grazie a lei, grazie a voi. Come di consueto alla fine del nostro appuntamento qualche consiglio di lettura. Coloro i quali vogliano approfondire la ricerca dell'Istituto Tognolo dalla quale siamo partiti la trova raccolta nel volume Cerco, dunque credo, i giovani ed una nuova spiritualità. E poi il volume Coedito da Avvenire, Vita Pensiero, che edita anche il volume di cui abbiamo parlato finora, Dio dove sei, che raccoglie gli interventi della seguitissima serie che Paola Biniardi ha raccolto e ha preparato per Avvenire. Grazie a tutti dell'ascolto e alla prossima. Dentro all'Avvenire è una serie podcast di Avvenire a cura di Marco Ferrando e Alessandro Saccomandi. Supervisione Deborah Spadoni. Si ringraziano Massimo Dezzani e Chiara Vitali. Per Avvenire direttore Marco Girardo, vice direttori Marco Ferrando e Francesco Riccardi. Immagina come ti fa sentire insegnare qualcosa al tuo nipotino. Ora, immagina poterlo fare per migliaia di persone. Firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Garantirai un'istruzione e un futuro ai giovani meno fortunati.